Dal 7 al 10 novembre torna il Pisa Book Festival. La diciassettesima edizione è stata presentata in Regione Toscana. Al Palazzo dei Congressi di Pisa sono previsti oltre 200 eventi con 160 editori indipendenti, 10.000 titoli e ospiti nazionali e internazionali. L'evento è promosso e sostenuto da Regione Toscana, Fondazione Pisa, Camera di Commercio e con la collaborazione dell'Università di Pisa. È un'occasione di incontro con l'editoria indipendente e quindi offre uno spaccato di quella bibliodiversità che noi come Regione appunto da anni promuoviamo. Quindi incontri anche con tanti editori e con tanti editori della Regione Toscana. Poi naturalmente c'è anche uno spaccato internazionale molto importante. E poi l'ospite, l'ospite quest'anno sarà l'Europa, l'anno scorso l'ospite era la Spagna. L'Europa tutta, certo, ma con un focus su due nazioni, Portogallo e Romania. È inoltre previsto un approfondimento sulle letterature dell'est europeo a 30 anni dalla caduta del muro di Berlino. Gli autori più attesi sono i romeni Radu Pavel Geo, Claudio Florian ed Eugène Uri Caru e i portoghesi Almeida Faria, la voce più attorevole della letteratura lusitana contemporanea, Luis Cardoso, cantore della storia e dello spirito di Timoreste e il giovane Valerio Romao. Grazie a tutti.